Firmato un protocollo d'intesa tra Roma Capitale, Ama e Conai per il potenziamento della raccolta differenziata. Partirà a fine febbraio con la distribuzione dei kit nei municipi Sesto e Decimo, il nuovo porta a porta domiciliare che coinvolgerà 500.000 cittadini. Nel 2018 sarà esteso progressivamente agli altri municipi per arrivare ad 1.200.000 residenti. Riparte il ciclo completo di formazione professionale delle scuole arti e mestieri, previsti oltre 100 corsi distribuiti nelle 4 scuole dedicate. Sarà garantita la continuità delle attività formative in un quadro generale di sviluppo del tessuto economico, occupazionale e produttivo, mettendo al centro i cittadini. Roma punta sui flussi turistici di qualità come quello congressuale. Fondamentale è stata la costituzione del Convention Bureau Roma e Lazio che si è riunito pochi giorni fa per la prima volta. Obiettivo far diventare la capitale punto di riferimento dei congressisti, già 40 i nuovi progetti messi in cantieri dagli 86 partner.